Partiamo dalla coorganizzazione. IWA, di cui sono il presidente, è l'associazione dei professionisti web che organizza questo evento. È l'associazione che dal 2000 è presente in Italia, quindi il prossimo anno faremo 25 anni di attività in territorio nazionale, raggruppa i professionisti che lavorano nel web. Se volete maggiori informazioni c'è il sito IWA.it dove trovate anche indicazioni eventualmente su come scrivervi i benefici dall'iscrizione. Il concetto di base è lavorare assieme per fare rete. L'altro partner che organizza l'evento è Accessible.eu, che anche in questo caso rappresento io, in quanto Accessible.eu è un progetto che coinvolge degli esperti in varie nazioni. In Italia siamo due esperti, Marco Pizio di AISM per l'accessibilità tra virgolette fisica o comunque legata al mondo del turismo e il sottoscritto per l'accessibilità digitale. Perché è importante conoscere cos'è Accessible.eu? Perché Accessible.eu è il vostro futuro in tema di accessibilità. È iniziativa FARO proposta dalla Commissione europea per i diritti delle persone con disabilità dal 2021 al 2030. Di fatto è un centro risorse dedicato al tema dell'accessibilità che opera quindi nell'ambiente edificato, nel settore dei trasporti, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle politiche, delle normative, delle regole per garantire la partecipazione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita su base di ugualianza con gli altri. Quindi è una realtà che offre risorse online, contenuti per prendere, sono stati fatti dei workshop, vengono fatti almeno un'ottantina di workshop all'anno dedicati al tema dell'accessibilità. Questo è uno degli eventi di Accessible.eu. Percorsi di formazione si stanno avviando, si sta facendo networking, perché la cosa più importante è riunire i diversi soggetti interessati, chi sviluppa, chi acquista i prodotti, chi usufruisce dei servizi, per arrivare a migliorare costantemente il tema dell'accessibilità dei prodotti e dei servizi. Ma anche Accessible.eu sarà un supporto alla Commissione europea per aiutare sul tema del monitoraggio e vigilanza dell'accessibilità, dando indicazioni normative, informando gli utenti di quali sono i loro diritti e di come possono quindi anche interagire sia con Accessible.eu, sia con la Commissione europea, sia con gli organismi nazionali di monitoraggio. Chi può partecipare a questa iniziativa? Tutti, aziende pubbliche e private, associazioni, persone con disabilità, singoli professionisti, università. Se volete maggiori informazioni ci trovate nel sito www.accessible.eucentre.eu, oppure è possibile mandare un'email all'indirizzo accessibleeu-foundationonce.es, che è la capocordata del progetto, oppure ci trovate in Twitter, ci trovate su Facebook, direttamente in questo caso coi canali di EU Social, ossia la divisione dedicata all'ambito sociale della Commissione europea, oppure, scusate, la stessa cosa anche per YouTube, oppure in LinkedIn trovate proprio il gruppo di Accessible.eu, dove potete unirvi, potete entrare nel gruppo, condividere informazioni contenuti, porre domande ed entrare, diciamo, in collegamento con il network di professionisti che sta supportando questa iniziativa. Detto questo, sono stato svizzero perché sono le 14.40, vediamo a questo punto le norme che coinvolgono il tema dell'accessibilità dagli obblighi alle competenze professionali. Premesso che il tema dell'accessibilità impatta nel mondo ICT in tutto l'ambito dell'ICT, perché noi facciamo spesso l'errore di limitarci ai siti web, a volte alle app mobile, ai documenti, ma anche l'hardware ha regole di accessibilità, anche il software ha regole di accessibilità, anche qualsiasi oggetto potenzialmente ibrido, una mescolanza tra hardware e software, un totem informativo, ha delle caratteristiche di accessibilità che devono essere rispettate. E quando parliamo di rispetto, abbiamo due riferimenti generali, vi sto facendo un piccolo recap per portarvi al tema delle competenze, perché ci potrebbe essere qualcuno magari che sta seguendo questo seminario e che per la prima volta viene a conoscenza di queste tematiche. Ci è capitato anche di aziende che sono obbligate da un paio d'anni ad applicare queste normative, che abbiamo trovato dall'altra parte una completa ignoranza, nel senso non conoscenza, degli obblighi normativi in termini di accessibilità. La prima di tutte è stata la Web Accessibility Directive, il cui acronimo è WAD, che di fatto è nata inizialmente per i siti web e le applicazioni mobile degli enti pubblici, che ha creato, diciamo, l'interesse per l'accessibilità perché ha messo a nudo i livelli di accessibilità dei prodotti web e mobile dei soggetti pubblici, con l'obbligo di pubblicare una dichiarazione di accessibilità. Anche in questo caso, una delle novità che è stata inserita in questa direttiva, poco utilizzata sia dagli utenti e poco spesso implementata sia dalle pubbliche amministrazioni sia dalle aziende, è il meccanismo di feedback, ossia una modalità di contatto per cui le persone con disabilità che trovano problemi di accessibilità lo segnalano alle amministrazioni o alle aziende destinatarie, queste hanno un termine di legge per sistemare le problematiche. Se non lo fanno, il soggetto si può rivolgere a un organismo terzo, che può essere il difensore civico per il digitale, oppure può essere la stessa agit, l'agenzia digitale, che in questo caso attiva dei procedimenti e richiede l'adeguamento. Ove l'adeguamento non venga fatto, ad esempio nel settore privato, c'è il rischio di una sanzione che può arrivare al 5% del fatturato, che ad oggi è la sanzione a livello percentuale più alta che esista in ambito digitale a livello nazionale. Pensate che il GDPR, la violazione della normativa sul trattamento dati personali, la sanzione può arrivare al 4% del fatturato, accessibilità arriva al 5%. Un'altra tematica che a noi che lavoriamo quotidianamente nel settore ci fa un po' sorridere, è che molti si sono accorti del tema dell'accessibilità perché dal 28 giugno del 2025 non si potranno più immettere sul mercato europeo prodotti o servizi in ambito ICT, quindi dai sistemi hardware, siti web, servizi bancari, ebook, siti di commercio elettronico, applicazioni mobile, se non conformi alle regole di accessibilità. Tutti i prodotti esistenti sul mercato dovranno essere adeguati entro non oltre il 28 giugno del 2025. Questa cosa ci fa sorridere perché noi a livello nazionale abbiamo delle normative che sono nate ben prima di questa normativa europea che abbiamo recepito recentemente da qualche anno e che di fatto già ci obbligano, già obbligano qualsiasi azienda, qualsiasi soggetto pubblico o privato di qualsiasi dimensione a garantire l'accessibilità dei prodotti e dei servizi. Quindi questo ci porta a porci una domanda di perché ancora oggi stiamo parlando di necessità di accrescere le competenze in accessibilità dei professionisti. Ce lo chiediamo perché purtroppo da una parte le persone con disabilità spesso non segnalano i problemi, si arrabbiano e vanno altrove dove possono farlo. Quindi in questo caso un'azienda perde soldi, perde possibili clienti per l'inaccessibilità del prodotto e servizio, oppure un altro problema è che non c'è richiesta dalle aziende e quindi i professionisti magari autoformati, magari hanno fatto anche corsi di formazione professionale, ma senza l'inserimento di queste tematiche si trovano a produrre informazioni e servizi dove poi dall'altra parte la figura del web accessibility expert dice che devi rifare il contenuto perché i colori non vanno bene, devi rifare quel tipo di oggetto perché non lo posso usare tramite tastiera e diciamo cose che per noi quotidianamente sono fatte di buon senso ma che troviamo quotidianamente come errori dovuti proprio alla mancata conoscenza da parte di chi lavora in ambito digitale di queste regole che oramai se andiamo a vedere le prime versioni risalgono al 5 maggio del 1999 allo scorso millennio. Ma detto questo come vi dicevo in Italia abbiamo due norme giuridiche specifiche che vanno sia per la pubblica amministrazione che per i privati di qualsiasi dimensione. Abbiamo la legge 67 del 2006 e abbiamo il decreto legislativo 216 del 2003. Sono importanti perché la prima tutela le persone con disabilità vittime di discriminazioni, la seconda tutela la discriminazione in ambito di lavoro tra cui anche in ambito di disabilità. Quindi che significa? Che se noi abbiamo dei servizi digitali interni all'azienda quindi rivolti al personale interno applicativi, software gestionali, intranet e via dicendo oppure abbiamo contenuti o servizi logati all'esterno dobbiamo garantire che siano accessibili perché indipendentemente da qualsiasi altra normativa esistono queste normative generali per la discriminazione per cui l'utente che si sente discriminato fa solitamente prima una diffida all'azienda, all'amministrazione e in caso di inadempienza può avviare un'azione giudiziaria per la rimozione di queste barriere e in questo caso la normativa dice che accertata la veridicità della segnalazione il giudice ordina la rimozione della problematica e l'indennizzo della persona con disabilità che ha subito discriminazione. Quindi queste due norme del 2003 e del 2006 di fatto hanno anticipato moltissimo le norme quelle europee. Ma cosa è stato diciamo qual è stata la norma che gli ha potenziate che le ha rese applicabili al mondo del digitale? La legge stanca. Legge stanca che è nata ufficialmente il 9 gennaio del 2004. Quest'anno ha compiuto 20 anni. C'è ancora il video nei canali di Accessibility Day della giornata che abbiamo fatto dedicata al tema al tema della legge stanca contro l'altro Lucio Stanca, il ministro stesso. Quindi la legge stanca che ripetiamo ogni volta è la legge di riferimento per l'accessibilità ICT esiste dal 2004. Ha avuto evoluzione via via con l'espansione dovuta anche alla Web Accessibility Directive perché è stata modificata anche in quell'ambito inserendo l'obbligo della dichiarazione di accessibilità e del meccanismo di feedback. È stata estesa alle grandi aziende con fatturato superiore ai 500 milioni di euro di Meden nell'ultimo triennio ma di fatto ha una cosa importantissima che è l'articolo 11 che definisce tramite linee guida di Agi le regole tecniche da applicare per l'ICT. Quindi le altre normative che abbiamo visto prima quando si tratta di una causa di un contenzioso legato all'ambito digitale fanno riferimento alle regole tecniche della legge stanca. Similmente la direttiva sui requisiti per l'accessibilità dei prodotti e servizi l'European Accessibility Act chiaramente anche in questo caso si rifarà sulla norma tecnica attualmente referenziata dalla stanca ma poi sarà la medesima norma tecnica perché quando parliamo di norme tecniche quando parliamo di riferimenti come rendere accessibili i prodotti e servizi e quindi quali competenze deve avere il professionista per garantire ciò? In ambito normativo ad oggi abbiamo come riferimento per quanto riguarda il mondo web le WCAG 2.1 Web Content Accessibility guideline 2.1 che sono contenute nella norma tecnica UNI CEI EN 301 549 del 2021 scaricabile gratuitamente dal sito UNI dell'enti in normazione. Perché è importante conoscere ciò? Perché questa è la base su cui già dovete lavorare. Nell'evoluzione di queste norme tecniche il lavoro che stiamo facendo a livello internazionale è l'aggiornamento di questa UNI CEI EN 301 549, nello specifico a livello europeo stiamo aggiornando la norma che si chiama EN 301 549, estendendola ai requisiti del European Accessibility Act quindi ad altre tematiche e in ambito web verrà estesa alle WCAG 2.2. Quindi questa è un'informazione che va recepita da tutti i professionisti che lavorano in ambito web e anche in ambito app mobile iniziate già a lavorare usando le WCAG 2.2 perché sono retrocompatibili con le WCAG 2.1 quindi se io sono conforme alle WCAG 2.2 sono conforme anche alle WCAG 2.1. Però in questo modo svilupperete prodotti e servizi già a norma per il 2025 e quindi significa anche per i vostri clienti avere un prodotto qualitativamente migliore e pronto all'ingresso diciamo dell'European Accessibility Act perché è un po' diciamo brutto per usare un termine pulito che qualcuno sviluppi oggi usando le WCAG 2.1 e tra circa un anno vada dal proprio cliente dicendo guarda che è cambiata la normativa dobbiamo passare alle 2.2 quindi dobbiamo rifare parzialmente tutta la parte di design del sito perché ripeto non è argomento di questa sessione ma le WCAG 2.2 portano molti miglioramenti alcuni soprattutto che fanno che hanno impatto sulla parte di design e avete visto norme uni cos'è uni anche qui vado abbastanza veloce uni è l'ente di normazione italiano nazionale che ha compiuto cento e passa anni qualche anno fa e la galassia uni raggruppa tutta una serie di verticalizzazioni tra le verticalizzazioni c'è un un ente di normazione che si chiama un info che si occupa di informatica dove nascono tutte le norme legate all'ict la famosa unicei e n 301 549 che vi dicevo prima che è la traduzione in italiano della en 301 549 è stata gestita in un info nella commissione tecnica che si occupa di accessibilità ma perché vi sto citando un info un info è importante perché nel nostro ambito ha una commissione che tra l'altro presiedo io che la uni commissione tecnica 526 apnr apnr è un acronimo che significa attività professionali non regolamentate ambito ict ossia all'interno di questa commissione nascono le norme tecniche che definiscono i requisiti di competenze abilità e conoscenze sia di specifici famiglie di profili professionali sia a livello generale questa commissione diciamo è a livello nazionale figlia di una commissione a livello europeo che è il 428 dove al suo interno vengono svolte attività similari dove esistono dei gruppi di lavoro anche in questo caso che si occupano di definire norme o specifiche tecniche a supporto della qualificazione dei professionisti ict perché vi ho detto questo perché esistono una serie di norme della famiglia 11.621 legate proprio ai profili professionali in ambito ict tra queste la parte 3 riguarda i profili professionali relativi alle professionalità operanti nel web quindi l'ambito proprio di chi fa lo sviluppatore web poi vi sono altri profili di altre tipologie informazione geografica adesso ne stiamo facendo ad esempio uno sui profili di ruolo professionale relativi alla transizione digitale ed è partita una nuova attività di una possibile nuova parte 8 relativa ai profili dedicati al mondo dell'intelligenza artificiale a livello europeo c'è una valanga di norme tecniche che definiscono le competenze che devono avere i professionisti in ambito ict detto questo tendenzialmente queste norme che sono tutte da acquistare infatti nella slide c'è l'immagine del carrello significa non sono norme a titolo gratuito sono norme che vanno acquistate definiscono ad esempio le cf questo forse l'avete sentito nominare i competence framework il framework di riferimento per la creazione dei profili in ambito ict anche in ambito iso ci sono dei requisiti specifici di in ambito sicurezza quindi a livello diciamo di normazione tecnica c'è molto a livello italiano abbiamo delle verticalizzazioni perché questo perché a livello italiano esistono un'altra legge la 4 del 2013 vedete il caso la legge sull'accessibilità la 4 2004 la legge sulle professioni la 4 del 2013 è il quattro numero che porta bene probabilmente a queste normative e si tratta della legge che riconosce per la prima volta regolamenta nel nostro paese il tema delle professioni non organizzate in ordini e collegi quindi che significa tutte le professioni che non hanno albi rientrano nelle professioni non regolamentate in questo caso il legislatore ha voluto creare una norma per consentire comunque una minima organizzazione identificazione diciamo di chi svolge questo tipo di attività cos'è importante tra l'altro chiunque di voi svolge una professione di questo tipo deve dirlo deve dirlo che è professionista legge 4 del 2013 professionista attenzione non significa soltanto se è libero professionista ma anche se lavora dentro un'azienda e ricopre quel ruolo perché la legge dice proprio che è un adempimento da fare dire che si è professionisti in ambito web in ambito sicurezza in ambito x y z in ambito condominiale anche un amministratore di condominio rientra nella legge 4 del 2013 se voi avete il vostro amministratore di condominio quando vi manda i documenti troverete scritto nei vari documenti che amministratore ai sensi della legge 4 del 2013 quindi anche voi dovete dire che lavorate in ambito della legge 4 del 2013 perché l'indipimento e questo dice la normativa rientra tra le pratiche commerciali scorrette ed è sanzionabile quindi se voi non dite che siete professionista legge 4 siete sanzionabili quindi mettetelo nella firma delle mail ad esempio nella carta intestata nella nelle fatture via dicendo un'altra cosa importante il ruolo delle associazioni nessuna associazione c'ha l'esclusiva del settore quindi le associazioni sono volontarie senza nessun vincolo di rappresentanza esclusiva e possono collaborare a creare norme tecniche uni per definire le competenze abilità e competenze professionali di chi lavora nel settore cosa che noi come IWA abbiamo fatto perché questo perché l'articolo 9 di questa legge definisce anche il concetto di certificazione di conformità le associazioni collaborano quindi a fare norme tecniche e poi ci sono gli accreditamenti per certificare i professionisti rispetto a norme uni qui non voglio andare troppo in dettaglio ci sono tre tipologie di certificazione l'autocertificazione io nella mia firma della posta elettronica mi definisco come obbligatorio professionista web legge 4 del 2013 mi autocertifico che sono professionista poi c'è la certificazione che è fatta classica che è fatta da soggetti aziende in molti casi o associazioni stesse che rilasciano delle attestazioni che chiamano in alcuni casi in modo non corretto certificazione che diciamo hanno un valore di mercato l'esempio che si fa sempre in altri ambiti sia la certificazione adobe microsoft oracle nel particolare settore ha valore perché perché è una certificazione fatta da un da un'entità conosciuta importante poi c'è l'ultima che la certificazione sotto accreditamento che è importante perché perché una certificazione fatta da soggetti che sono accreditati a livello nazionale in questo caso in italia c'è accredia che è l'ente italiano per l'accreditamento queste realtà fanno organizzano delle sessioni d'esame quindi esame scritto con qui solitamente esame orale valutazione del curriculum valutazione del percorso informativo e via dicendo e rilasciano delle certificazioni in questo ambito diciamo la uni 11 621 parte 3 come vi dicevo definisce le professionalità operanti nel web e quindi in questo caso ci sono 29 profili professionali di cui alcuni li abbiamo già arricchiti con il tema dell'accessibilità quindi se andate a vedere la definizione del web community manager del product manager anche dell'esperto di di seo il web designer web application developer ma adesso ne parleranno i colleghi di questa tematica cioè tutti i profili elencati quindi l'application developer il content specialist information architect digital strategic planner il mobile application developer l'esperto di realtà aumentata l'esperto di learning il social media manager user experience e il web accessibility expert hanno tutte all'interno il tema dell'accessibilità perché come vi dicevo come vi diranno i miei colleghi successivamente al mio intervento tutti i profili devono essere potenziati nel tema dell'accessibilità perché non devo avere un designer un developer che non conoscono l'accessibilità e poi interviene un web accessibility expert per indicarli cosa correggere e in molti casi purtroppo non sanno nemmeno come correggere la problematica infatti il web accessibility expert attenzione non è l'unica figura che deve occuparsi accessibilità è l'esperto che viene chiamato in molti casi in ambito consulenziale dello sviluppo web delle app ma in generale diciamo di tutto ciò che è digital oramai difatti da web spesso viene poi definito accessibility expert in generale e la cosa importante è che supporta come lo dice la definizione lo sviluppo l'implementazione e la verifica di soluzioni web per garantire la conformità con le regolamentazioni in tema di accessibilità quindi non è soltanto come dicevo la figura che verifica ma è la figura che a livello consulenziale aiuta l'azienda o aiuta gli altri professionisti a crescere e a coprire le eventuali lacune in tema di accessibilità in modo che il lavoro delle web accessibility expert sia sempre più ridotto diciamo a livello generalistico quindi non dovrò aspettare una verifica magari finale altro errore che viene fatto ma poi ripenso ne parleranno i colleghi una verifica finale fatta all'esperto di accessibilità che mi dice che i colori non vanno bene devo già saperlo fin dall'inizio quindi l'esperto di accessibilità deve aiutarmi a identificare problematiche particolari su cui magari diciamo risolvendole l'esperto coinvolto sia il design al developer accresce il suo bagaglio culturale quindi diventa un co-working chiamiamo una collaborazione una collaborazione come mi piace chiamarla per cui apprendendo ciò che non va fatto e apprendendo come va fatto in modo corretto il professionista accresce le sue conoscenze abilità e competenze io passo la palla tra poco alla collega michela proprio per per dirvi con questa ultima slide che il tema di accessibilità tutti dobbiamo occuparcene perché non vi ho fatto particolari esempi ma pensiamo all'ambito e-commerce nell'ambito e-commerce chi gestisce un negozio online deve sapere che se vengono caricate delle schede descrittive dei prodotti scaricabili in pdf quei pdf devono essere accessibili magari non lo sa fare ci sarà qualcuno un'azienda che se ne occuperà ma deve saperlo che deve essere garantita questa tematica deve saperlo che vanno usati colori in certo modo e non bisogna usare terminologie come clicca qui o via dicendo quindi a seconda della tipologia di attività che svolge un soggetto in azienda deve avere una la sua il suo piccolo bagaglio di conoscenze in termini accessibilità così come legal ufficio acquisti deve sapere quali sono i vincoli legislativi e contrattuali che vanno inseriti in termini accessibilità e non limitarsi solamente a quelli perché quotidianamente con i colleghi diciamo quello è il minimo sindacale mettere su un contratto un obbligo di legge che dice il fornitore si impegna a garantire accessibilità quello è un adempimento non è garantire accessibilità devo poi lavorare internamente con professionisti a creare un team che mi aiuti a verificare ciò che il fornitore mi porta oppure coinvolgere una terza parte per una valutazione certificazione Grazie a tutti